Ciao ragazzi eccoci qui per un nuovo video andiamo a riprendere le farfalle che avevamo montato nell'altro video farfalle nelle falene allora sono passate un po' di giorni si sono asciugate andiamo a recuperare tutto il materiale a togliere tutti gli spilli e i foglietti per stendere le ali recuperiamo il materiale perché non è assolutamente da buttare le palline di naftalina poi tutti gli aghi mangiare c'è un po' di giorni Buongiorno a tutti. I nostri spigli entomologici, poi delicatamente possiamo togliere gli spilli da sarta. I nostri spigli entomologici, poi delicatamente possiamo togliere gli spilli da sarta. I nostri spigli entomologici, poi delicatamente possiamo togliere gli spilli da sarta. Recuperiamo anche i fogliettini. Delicatamente togliamo il fogliettino. Ok, la prima ala si è liberata. Procediamo con la seconda. Grazie. Altro berganno. Grazie. 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 Grazie.